Il santuario di Santa Maria della Ginestra, noto anche come Santa Maria di Castelvecchio, si trova a Levane, nel comune di Bucine. Il nome è documentato fin dal Settecento e così è chiamato nelle visite pastorali del 1726 e 1733. Sorse in seguito ad un avvenimento miracoloso di cui ancora vi è a memoria della tradizione locale orale. Tra la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo, periodi di forte impulso al culto mariano nella diocese aretina, alcuni vuoi si inginocchiarono di fronte ad una immagine della Vergine affrescata in un tabernacolo viario. In quel luogo venne costruita la chiesa e il luogo era già di culto, forse anche in virtù della vicinanza di una fonte, le cui acque erano ritenute miracolose, in particolare per l'allattamento. Nel corso dei secoli il santuario ha subito vari interventi, tra cui la ricostruzione del 1675 e la ristrutturazione del 1902, con l'aggiunta dell'abside, del campanile e del portico. Ad aula unica presenta sulla facciata tracce d'intonaci 4-5 centeschi e l'interno, coperto da capriate linee, conserva sul secentesco altare maggiore una fresco raffigurante, la Madonna della Cintola, opera fiorentina collocabile tra la fine del XIV secolo e gli inizi del XV.